Come è il titolo di questo evento? Ora, nell'ambito del cursus e della storia, in tempi più antichi o recenti, dell'algodistrofia precedentemente menzionato e scandito, la radiologia sostanzialmente entra in gioco, come diceva il professore prima, nel momento in cui SUDEC, ed è per questo che in radiologia si tende sempre a parlare con questo termine, entrò a discutere nella fisiopatologia della malattia, nella configurazione di questa nuova patologia, mettendo più in risalto l'aspetto dell'osso con l'avvento dei raggi X, perché allora fondamentalmente, naturalmente, era l'osso quello che si poteva vedere, quindi era l'osso che poteva coinvolgere la radiologia o l'imaging preistorico, all'inizio della sua storia, dentro questo genere di entità. Come si è visto, sono esistiti ed esistono tuttora tantissimi termini con cui questa patologia è stata chiamata, o comunque che si sono susseguiti nella definizione di questa malattia, in funzione dell'evento precipitante, dei sintomi e anche semplicemente della specializzazione e del paese nella quale si andava a studiare. E tra questi, ovviamente, ve ne sono di più comuni, tra i quali quello dell'algodistrofia, e il più comune nel momento in cui si è riconosciuta questa patogenesi di base, quantomeno, è quello di distrofia simpatico riflessa. Non osteodistrofia, ma di distrofia proprio perché non è più una questione solo di osso. Anche in tempi moderni, come veniva più nel dettaglio spiegato e menzionato prima, questa patologia non ha trovato di fatto una definizione così tellur, così ritagliata e così ben specificata. E se noi andiamo a vedere i criteri diagnostici che si sono susseguiti anche appunto nei tempi moderni, nelle moderne conferenze che hanno cercato, a seconda della società, di disegnare un quadro più chiaro della malattia, non troviamo però dei riferimenti all'aspetto dell'imaging, ovvero questa patologia non viene diagnosticata e non viene definita sulla base di segni o sintomi radiologici. L'unico, diciamo, ci sono varie evidenze, come dicevamo prima, che dimostrano quanto sia necessario stringere su questa patologia, di quanto sia considerata in alcuni termini una trappola diagnostica, come possa essere considerata addirittura una costruzione o, come citava prima il professore, questa sia anche vista come qualcosa che può non dare qualcosa di buono nella gestione del paziente. E quanto, come prima Lisa menzionava, questa potrebbe comunque portare, ancora oggi, a considerazione estremamente serie sul trattamento chirurgico. Nella, dicevamo, nell'elenco delle tecniche diagnostiche o degli strumenti diagnostici della visita o degli strumenti diagnostici che vengono impiegati all'interno di questa patologia, l'imaging fondamentalmente fa una comparsa quando ci si riferisce alla densità dell'osso e all'osteopenia a chiazze che tipicamente caratterizza questa patologia. e in altri contesti può intervenire dal punto di vista interventistico quando si deve andare a vedere quanto il sistema simpatico contribuisce ai sintomi del paziente, quindi sul fronte diagnostico interventistico. E, come dicevo, nella sua definizione più generale, tornando, facendo un passo indietro, da CRPSA all'RDS, all'algodistrofia, fondamentalmente l'imaging viene chiamato in causa quando si parla di cambiamenti di trofismo di tessuti molli e di demineralizzazione a macchia, a chiazze. Le tecniche di imaging che possono essere chiamate in causa nella vera pratica clinica o storicamente o attuale e nell'ambito della ricerca sono fondamentalmente la radiologia convenzionale, tuttora estremamente importante nella diagnosi iniziale della malattia, ovvero nel quotidiano, la risonanza magnetica e la medicina nucleare che è sostanzialmente ancora oggi da alcune persone portata avanti, più per scopo di ricerca che per altro, ma che ha perso molto del suo significato. Sulla base di fondamentalmente tre elementi di caratterizzazione in imaging che sono appunto l'ostopenia, la demineralizzazione a chiazze, l'edema osseo, l'edema midollare, sempre a chiazze e il cambiamento di trofismo dei tessuti molli. Storicamente, al di là di Sudek, ci sono tante evidenze di quanto traumi o non traumi possano generare aspetti di demineralizzazione focale, a chiazze, diffusa, a livello osseo e la radiologia convenzionale ovviamente è stata a lungo l'unica che poteva essere chiamata in causa per andare ad analizzare questo genere di patologia. In radiologia convenzionale che cosa succede? Noi possiamo vedere l'ostopenia, cioè la demineralizzazione a chiazze dell'osso, in particolare nelle regioni diciamo in prossimità dell'articolazione, il riassorbimento subperiostale e non in questa circostanza, o almeno non bene, anche le ombre che sono dettate dalla tumefazione e dalla soffusione dei tessuti molli. È tipico di questa patologia ovviamente la conservazione dello spazio articolare e l'assenza di erosioni. Come è stato menzionato prima, questa patologia è estremamente varia, al di là dell'epidemiologia e delle cause che si stanno via via delineando, anche nella sua manifestazione proprio di sede, di durata, di tempo di insorgenza. Può essere una patologia che coinvolge l'arto che ha subito un insulto o non quell'arto, di solito è distale ma può essere prossimale, può insorgere a distanza di poco, a distanza di tipicamente il corteo dei sintomi al pieno del secondo Budapest è più o meno dopo due o tre mesi, ma può insorgere anche dopo. Può migrare, può ripresentarsi, può essere segmentale come in questo caso per esempio esclusivamente queste due dita e quindi anche da questo punto di vista diciamo che ci aiuta poco. La risonanza magnetica ovviamente anzitutto dà un forte sostegno a tutti quelli che sono i segni sui tessuti molli, quindi l'edema, l'enouncement, nel caso ci sia un esame con contrasto, ovviamente non è richiesto in questa patologia, però è stato effettuato ed è stato valutato in termini di studio in particolare, l'espessimento dei tessuti molli inizialmente, successivamente negli stadi successivi o come giustamente diceva il professore, nei stadi più cronici e più prolungati di atrofia invece dei tessuti compresi quelli muscolari e ovviamente come diceva Elisa l'edema osseo che è estremamente sensibile ma estremamente poco specifico anche quando si va a cercare di caratterizzarlo nella sua dimensione a chiazze. E quindi la risonanza magnetica è senza ombra di dubbio oggi lo strumento che permette, lo strumento di imaging che permette di andare a cercare di capire qual è il meccanismo con cui l'algodistrofia si muove o si presenta. Esistono molti studi nel nostro ambito, da quello di Mark Schweitzer che cercava di valutare quanto l'edema osseo fosse correlato agli reperti nei tessuti molli, però come vedete non c'è un corteo sintomatologico che offra una certezza di diagnosi e tantomeno nel momento in cui tutti i criteri di diagnosi sono incastrati una buona o condivisa sensibilità. Per esempio prendendo da quello studio che è stato uno dei primi che valutava il contrasto e l'aspetto sui tessuti molli di questa patologia, vedete come ovviamente l'edema dei tessuti molli, l'impregnazione, la soffusione di contrasto siano uno degli elementi della patologia, ma la sua assenza non è assenza di patologia. Allo stesso modo la risonanza magnetica, dicevo, è estremamente utile nel valutare il grado di involuzione, di atrofia dei muscoli, come in questo caso a livello della pianta del piede. Altri segni come il versamento articolare sono presenti, possono essere presenti e tutto sommato alcuni paper danno indicazioni un po' misleading, che portano un po' non sulla corretta via, perché aggiungere questo criterio diagnostico aumenta insensibilità se non lo si incasta però con tutti gli altri, perché ovviamente incastrando il corteo sintomatologico insieme si aumenta invece la specificità e si abbassa la sensibilità, perché non è detto che gli altri siano tutti presenti. La medicina nucleare, come dicevo, con la scintigrafia, è stato un campo dove ci si è applicati anche un tema di algodistrofia, ma che sostanzialmente oggi non trova una sua applicazione reale, può essere, poteva, può essere, adesso vediamo in quale specifico caso utile nella sua iniziale presentazione, nella fase cronica addirittura spesso la scintigrafia è totalmente normale, l'attività è come per quanto riguarda l'osteopenia, iustarticolare, è particolarmente evidente nelle immagini ritardate. Questo è un caso di algodistrofia. non è specifico, non è una tecnica che può permettere una specificità. Quello che rimane di questo genere di tecniche è la possibile importanza o considerare queste tecniche nel momento in cui si voglia definire un paziente come potenzialmente sottoponibile a una terapia con bisfosfonati o no. Diciamo che l'unica evidenza che più o meno rimane è questa. Ovviamente gli ultrasuoni non sono utili in tecniche di imaging che possono dare qualcosa a questa patologia nella pratica clinica, possono essere utili nel valutare gli assetti vascolari che possono sottendere a qualunque tipo di meccanismo fisiopatologico che si voglia andare a studiare. Vediamo qualche caso per concludere e per andare nella pratica. Quando la radicologia convenzionale parla da solo, tutto va bene, è una cosa estremamente semplice o comunque abbastanza evidente da dimostrare con questa appunto demineralizzazione che è prevalentemente nelle regioni periarticolare, questo riassorbimento sul periostale. In questo caso non si vede molto l'edema dei tessuti molli, anzi direi che quasi del tutto assente. I problemi iniziano quando, soprattutto nelle fasi iniziali, non c'è un riferimento radiologico convenzionale, osseo in particolare, estremamente evidente. In questo caso ancora si vede, si sono i segni dell'algodistrofia, almeno alcuni di questi. C'è una demineralizzazione che può essere evidente, però non ci sono grandi segni di soffusione nei tessuti molli, non ci sono altre caratteristiche che possono così chiaramente indicarle. Un'ATAC che non è sostanzialmente indicata nella diagnosi di questa patologia, ovviamente può far vedere quello che fa vedere la radiologia convenzionale in maniera più dettagliata. Questo è l'ATAC dello stesso paziente che dimostra come si vede in maniera estremamente più precisa la demineralizzazione a chiazze e quel riassorbimento del quale parlavo. Ancora una volta, scarso versamento articolare o edema dei tessuti molli circostanti. Il problema è quando non c'è proprio niente, non si vede assolutamente nulla. Sfido chiunque a dire che ci sia qualcosa a livello di questa ANCA sulla radiologia convenzionale. Infatti l'ANCA era l'opposta e l'unico segno sostanzialmente in questo caso era quello dell'edema midollare con un po' di versamento articolare e poco altro. E in questi casi fare il diagnosi differenziale rispetto a una patologia iniziale di altra natura è estremamente difficile. Ovviamente, come citava prima Lisa, uno degli elementi è il suo follow-up, ovvero nel momento in cui questo edema scompare o si riduce e non lascia degli esiti in termini di necrosi o in termini di, diciamo, macroscopici imaging, ovviamente la diagnosi può essere indirizzata. Ancora una volta, nel momento in cui non ci sono segni che possano indicare sulla radiologia convenzionale, esistono altri pattern in risonanza magnetica che associano in maniera ancora più specifica questa patologia come l'edema che in questo caso affligge il condilo femorale senza una lesione cartilaginia con edema dei tessuti molli, scusate, circostanti che aggiunge, come dicevamo prima, specificità nel momento in cui viene associato, non certo sensibilità nel momento in cui tutte e due le cose devono essere presenti, versamento articolare e, come dicevo prima, questo edema, poi nel momento in cui questa patologia è definita algodistrofia scompare senza lasciare problemi cartilaginei o ossei evidenti macroscopicamente, però poi può, per esempio, come in questo caso, a distanza di un mese, ripresentarsi nella sede opposta con le stesse caratteristiche sia legate all'osso, sia legate ai tessuti molli e senza, ancora una volta, un coinvolgimento, un esito sulla cartilagine di fatto. La diagnosi differenziale è stata presentata prima dall'ISA e fondamentalmente si gioca sul fine della risonanza magnetica. È evidente che quando ci troviamo di fronte a una cosa del genere, già fatta, già finita, un'osteonecrosi, non ci sono dubbi, ma quando ci sono situazioni più iniziali o situazioni più confondenti, dove c'è solo l'edema, non ci sono evidenti lesioni che si portano alla radiologia, la diagnosi diventa molto difficile e rimane sempre estremamente importante ovviamente il controllo di stanza del paziente. Quindi per concludere, naturalmente la risonanza magnetica gioca, e l'imaging, anche l'Rx, nel momento in cui è la prima linea dell'imaging, gioca un ruolo nel riconoscimento precoce di questa patologia, dopo un trauma, per esempio, anche in diagnosi differenziale, sull'Rx, con una banale osteopenia da disuso. Però è estremamente fondamentale in questo momento proprio nell'aiutare chi poi coordina la ricerca su questo campo dal punto di vista preclinico e clinico nella discernere il corretto meccanismo fisiopatologico che vede poi ovviamente in gioco un po' tutte le categorie. Quindi tutti questi concetti sostanzialmente è vero che aiutano a migliorare, a comprendere meglio la patologia, a migliorare la nostra conoscenza, però portano anche spesso, al contrario di una volta, a un overdiagnosi e quindi anche a interventi che possono essere discutibili. Le criticità su tutti gli studi che indipendentemente da radiologici clinici sono attualmente, sono studi con popolazioni estremamente eterogenee, con rigore diagnostico piuttosto discutibili, e soprattutto al di là dei problemi nella definizione della patologia nel consenso di che cosa è definito il recupero dalla patologia. E davvero per concludere rimaniamo con il problema di un meccanismo fisiopatologico non è tuttora perfettamente delineato, con la mancanza di un test diagnostico che sia veramente il goal standard, la risonanza magnetica è il goal standard per l'edema, non per l'algodistrofia e per un supporto dell'imaging che può essere esclusivamente accessorio a quella che è la diagnosi clinica naturalmente. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.